Il capotto per i più pigri, oggi è il nostro tema. A tutti ha incuriosito il capotto della recensione Capotti per i più pigri di Baxmarra. Davanti a me abbiamo un libro. Questo è un modello del 1984, è abbastanza dritto così. Noi abbiamo fatto un modello uguale, tutto uguale, solo che sull'orlo va un po' ristretto. Nei nostri giorni un capotto così chiede di essere un po' ristretto. Io volevo farlo direttamente sul tessuto e non fare carta modello, però ho un tessuto che non si capirà niente, né il gesso né la matita. Come fare il carta modello non capirete mai, per cui faccio prima sulla carta, poi taglieremo sul tessuto. E così in qualche lezione vi farò vedere come modellare, tagliare, imbastire e provare un capotto così. Guardate attentamente lo schizzo. Solita manica kimono, abbastanza libera, un capo molto libero, però una parte passa in foulard drappeggiato un po', la parte davanti. E abbiamo deciso che sulla parte davanti, dove sarà questo foulard, tagliamo anche il soligo. Io vi farò vedere come fare in modo semplice e senza fatica. E quando noi facciamo vedere semplicemente un modello, ma non abbiamo intenzione di farlo, iniziate a chiedere in tanti, ma come si fa? Io ho deciso che sia a me serve un capotto così e farò vedere anche a voi come modellare. Iniziamo a lavorare. Davanti a noi abbiamo un tessuto elasticizzato, perché è elasticizzato, perché è bielastico. Io lo farò assolutamente senza fodera, con bordi rifiniti e basta. Oppure semplicemente girati e cuciti i bordi. Devo decidere. Però sono sicura, non avrà né bordature né doppio tessuto sul foulard. Una specie di capotto cardigan. La cosa importante è far vedere come si fa il taglio di questo capotto. Mettiamo via per adesso il tessuto. È già stirato. Ora prenderemo delle misure da prendere. Abbiamo bisogno delle seguenti misure. Lunghezza capo 103, lunghezza manica, quanto ci permette il tessuto. Lunghezza porso 34, sarà abbastanza largo. Circonferenza seno 118, metà è 59. Circonferenza bacino è 116, metà è 58. Larghezza spale 42, metà è 21. Lunghezza dietro 40. Vita non serve. Seno, bacino, larghezza spale, lunghezza dietro, lunghezza capo. Per la larghezza della manica, vedete voi quanto volete. Poche misure assolutamente. Fate attenzione. Se la metà della nostra circonferenza è 59, allora la metà è più o meno 30. Però noi prendiamo più o meno 33. Cioè, prendiamo sui 3 centimetri per ogni metà, perché il capotto è abbastanza largo. E anche sul 58 prendiamo più o meno 33. E verso l'orlo ristringiamo un po'. Questa vestibilità prendete come meglio credete. Qui non ci sono regole, perché quando il capo è largo, ognuno prende la larghezza desiderata. Tutto il resto si capisce. Iniziamo a costruire. Guardate, punto 0, settima postura cervicale, eccolo. E linea dritta, centro-dietro, che è lunga 103. 103 centimetri. 103 centimetri. Punto 0, 103. Lunghezza capo, lunghezza dietro, 40. Metà, 20. Tutto come prima, solo che è ancora più largo. Vita. Distanza fino al bacino, io ho 17. Ormai sapete come prendere questa misura. Detto più di una volta. E al 103, linea orlo. Chi non si fida del suo occhio, qui righello ad angolo. La larghezza colo, prendiamo 10 e mezza, perché io voglio che il nostro colo non sia troppo vicino alla base del colo. E altezza, ecco il nostro colo dietro. Questo non è il sistema delle 10 misure, dove bisogna essere precisi all'infinito. Seno 33, abbiamo già detto perché. Bacino 33, orlo 31, abbiamo già detto che un po' stringiamo sull'orlo. Orla e bacino, orlo e bacino unire con il righello. Larghina, assolutamente confortevole capoto. Fate attenzione, non abbiamo alcune linee che sfiancono, tutto molto dritto. Ora guardate, se dalla linea scuolo, continuare la linea, segnare la larghezza a spalle, che noi abbiamo 40, ma segniamo la metà. Cioè 20, e tracciamo una linea. E da questo punto scendete di 2 cm, inclinazione spalla. E tracciare la manica, si chiama inclinazione spalla. E fare la manica almeno 50 cm in lunghezza. Però avendo la manica kimono, vediamo cosa ci permette il tessuto. Guardate, larghezza a manica io ho 34. Per qui, questa distanza prendo 17. Angolo retto anche qui. Anche qui, angolo retto. Ricordate, il vostro talio si cuce bene quando le linee hanno una logica. Sia nei vestiti, quando costruiamo la manica, qui in vita si sfiancava, si divideva qui a metà e da metà si costruiva la manica accurata. Dicevamo, qui invece lo facciamo molto libero. Ecco, dalla linea vita, questa qui, un po' in su e con linea arrotondata disegniamo la manica. Il nostro cartamodello è pronto. Un'altra volta, guardate. Questo è il dietro. Ricordate, sul davanti non calcoliamo niente. Settima postura cervicale, lunghezza dietro, distanza fino alla linea bacino, lunghezza capo, le linee verticali, scolo alzato di 3,5 cm. Qui abbiamo preso 10, fatto allungare la linea scolo. E sulla linea, larghezza spalle, abbassato di 2 cm. E tracciato la linea dritta. Qui 90 gradi, angolo. Anche qui 90 gradi. I nostri capi si cucerano molto semplicemente. E dalla linea vita è partita la manica kimono. Ecco il nostro capotto per i pigri. Dietro pronto, ora costruiamo il davanti. Tutto molto, molto semplice. Niente scavatura qui, è un capo molto libero. L'unica cosa che facciamo, segniamo le cose di oggi. Ristringiamo un po' verso l'orlo. Per questo abbiamo stretto un po' sull'orlo. Se lo avessimo fatto nel 1984, di sicuro non si ristringeva sull'orlo. Un cappotto abbastanza largo. Un cappotto abbastanza largo. Serve solo alzare qui di 2 cm per far bilancio, che sarà un po' più alto la parte inizio spala. E un po' approfondiamo davanti. Altre modifiche non ci sono. Centro davanti combacia con centro dietro. Ora costruiamo. Noi abbiamo la carta velina messa in due, per tagliare sia la destra che la sinistra del davanti. Perché di solito, quando c'è tutto simmetrico, si fa una sola. Ma stavolta abbiamo destra e sinistra. Per questo, carta velina, due pezzi. Centimetri 8 dal bordo, facciamo linea centro davanti. Perché il nostro capo non è proprio a donatura a doppio petto. Però le due parti si sovrappongono abbastanza. Linea centro davanti. Linea centro dietro. Linea centro davanti. Scrivo per farvi capire meglio. E, vedete, non confondete, abbiamo bisogno della linea vita come misura. Siamo obbligati a sapere dov'è. Fate attenzione e non scambiate le linee. Così. Ora costruiamo il villaggio. Approfondiremo e taleremo destra e sinistra del davanti. Dietro un pezzo perché è simmetrico. Davanti due pezzi perché è assimmetrico. Inizio spala. Davanti si alza di 2 cm. Continuiamo la nostra spala fino a quando si intersettano le linee con il dietro. E taleremo da qui in base al dietro. E approfondiremo noi da questo livello qui. Sui 8 cm alla base del collo. E approfondiamo di altri 4 cm. No, di 3. E fate voi come meglio vi piace questa linea. Bene, cominciamo a tagliare il davanti. Linea vita con linea vita. La vita deve combaciare. Fate attenzione. La comodità di questo metodo è che quando facciamo il davanti non bisogna calcolare niente. Tutti i calcoli li abbiamo fatti sul dietro. Io ho visto tante volte quando le persone costruirono la manica chimonò davanti. con una forma e dietro con la sua forma. E la cosa più assurda è che pensavano a mettere queste linee insieme dopo. Io ovviamente osservavo scioccata. Io non capisco come fare in questo modo. Ecco, linea vita, linea vita, vita. Deve combaciare. Togliamo adesso il dietro e continuiamo a lavorare con il davanti. Carta avelina ne avremo ancora bisogno. Ecco la mia destra del davanti. Ecco la parte sinistra. Ho messo centro davanti con centro davanti che combaciano. Vedete, sì? Guardate, scrivo qui destra. E la parte che costruiamo il foulard. E qui scrivo sinistra. E scrivere anche dritto e dritto. Vuol dire che qui sarà il rovescio, anche qui rovescio. Questa è la parte davanti del capotto. Sinistra e destra. La parte sinistra mettete via, lavoreremo con la destra. Centro davanti. Guardate, per costruire adesso il coletto a listino, ora vi faccio vedere quale. Vedete questo? Qui il listino è dietro e dietro. Serve misurare il girocolo davanti, questo qui. E lunghezza scolo dietro. Ora scrivo tutto. Misuriamo non sulla destra, ma sulla parte sinistra. Capirete perché. Girocolo 25 cm. Una parte 25 cm. E qui 25 cm. Sul dietro abbiamo 12 cm. Allora in tutto fa 24 cm. Sul dietro misura scolo 24 cm. Ricordatevi. Serviranno per costruire. Ora capirete perché. La parte sinistra mettiamo via, rimane alla destra. Fate attenzione a che livello inizia il drapeggio del nostro foulard. Cioè, vieni dritto, dritto e da qui comincia il drapeggio. Ma io non ho preso proprio a metà pancia, ma 7 cm più alto della linea vita. Questo livello qui. Da me sarà più alto, voi fate come volete. Ecco, da questo punto, un po' più alto della linea vita, comincio a costruire il mio foulard. Fate attenzione che questa parte del listino casca un po'. Vuol dire che qui sarà più alto. Così. Penso che prenderemo 1,18 cm. Meglio 17. Questa è l'altezza del nostro listino che casca. E da questo punto andiamo ad allargare su questo livello. Penso che prenderemo su 14 cm da questo livello in là. e da questo punto andiamo a questo. Ecco il foulard, cioè in questo punto deve essere tanto. E questa linea va in su. Anche se finisce la carta velina, ne mettiamo ancora. e da qui va in su così con una linea inclinata. Vedete, sì? Qui allungato di 14 cm e qui alzato di 17 cm. E andiamo in su a costruire il foulard. Anche se la carta velina non basta, metteremo ancora. Ora guardate, questa parte qui, ora dobbiamo fare in modo che caschi in questo punto. Noi adesso faremo e voi penserete che per voi è troppo. Potete fare meno qui. Queste cifre prendete meno, io voglio così. Ora immaginate che sulla parte destra il listino è alto 17 cm. Però dalla base del colo lei deve andare di almeno 10 cm. Per questo da qui, con una bella linea arrotondata, iniziamo a mettere il nostro listino. E anche qui non ci basta la carta velina. E su questa linea mettiamo la misura scolo. 24 cm. Questo è il punto che combacia con la seconda spalla del listino. E da qui altri 25 cm per il listino davanti. Ora capirete tutto. Ora vi faccio vedere tutto. Meno questa inclinazione, se no sarà poco in sopra. Un po' meno. Ora ridisegno. Da questo punto prendiamo meno l'inclinazione di prima. Questa non vale. E mettere 24 cm. Il listino del dietro. Questo punto cascherà giusto sull'altra spalla. E in questo punto sarà alto di 10 cm. Ed ecco il nostro soligo come va. Su questa spalla è tanto, su quest'altra meno. E altre 25 cm per il girocolo davanti. Questo qui. Questo punto qui, 25 cm. Questa è la parte del dietro. Il nostro soligo è intero con il folar davanti. Per cui in questo punto prendiamo 8 cm. 9 cm. Ripeto un'altra volta. Qui 9 cm. Questa sarà cucitura sulla parte sinistra del davanti. Questa è la cucitura della seconda spalla. Su questa spalla sarà un po' più cascante. Per cui abbiamo preso 17 cm. Qui 11 cm. E qui 9 cm. Però queste cifre voi prendete quello che più vi piace a voi. Magari per qualcuno questo è troppo. Per altri magari non basta. Tutto come meglio pensate per voi. Ora vi spiegherò più dettagliato come verrà fuori questo colo folare intero. Ecco il nostro davanti classico. Il primo che abbiamo costruito. E il cm 7,8 cm più su della linea vita iniziate a costruire il folare. Ho allargato di 14 cm su questo livello del giro collo. E siamo andati in su in una linea sbiega. E aggiungiamo dopo ancora la carta. Più difficile è questo. L'igo si alza 17 cm. E' quella parte del colo che cascherà un po'. Dopo va messa la misura scolo dietro. E la misura dell'altra parte del giro collo davanti. Questo pezzo è uguale a questo solo che è dall'altra metà davanti. Come sarà addosso tutto questo? Più o meno vi faccio vedere sul manichino adesso. Ho messo spile sul centro davanti. Un po'. Sulla linea spalla. Così sarà il nostro capotto. Qui, guardate, viene questo. Questo è il nostro folare. Che cadrà in giù così. E qui continua il nostro colo sul ligo. Eccolo. In questo punto cascherà un po'. Ecco l'altro punto che si unirà con la linea spalla. E questa parte si unirà con l'altra metà davanti, così. In questo modo. Cioè una parola, questo è il nostro colo sul ligo tagliato intero con la parte destra del davanti. Se alla prova sembrerà troppo, noi lo faremo un po' meno dopo. Intanto così. Il cartamodello è pronto. Aspettate la prossima lezione dove talleremo e basteremo e faremo la prova di questo capotto. Penso che verrà fuori molto bene. Sta arrivando la stagione del freddo. Serve fare i capi spalla. Si può fare questo capotto semplicemente come un cardigan. Si può anche fare con fodera e farlo invernale. Sul dietro si può elaborare con cose che avete in casa. Si può fare in mille modi. Richiamo tutti a indossare i capotti e lasciar perdere le cose che propongono oggi il sul mercato, che non si capisce né in cielo né in terra. Saluto tutti. Con voi sono stati Paushtirina Michailovna e tutta la nostra truppa. Guardate i predmeti e guarderobo, tutto che vedo nella uffici. Tutti buoni, siamo noi, Paushtirina Michailovna e tutta la nostra squadra. Grazie a tutti.